ok startiamo il il broadcasting di talisman digital edition con il mio microfono trust master microfono trust master ragazzi miei microfono trust master ok andiamo a vedere com'è la fazenda qua allora il mio canale naturalmente qui abbiamo un problema dal vivo ora qua bisogna cambiare la pagina della l'immagine perché l'immagine è sbagliata in questo momento dal vivo eccolo qua devo cambiare l'immagine perché l'immagine è sbagliata immagine sbagliata allora andiamo a capire come fare a impostare l'immagine dal vivo dunque andiamo un po' forse la nella pagina nuova ma quella là sotto quella classica non va bene perché devo assolutamente sistemare ma devo assolutamente sistemare l'immagine dal vivo non va bene questo ma devo assolutamente ok la miniatura no non va bene questo modifica eccolo qua allora per talisman mi basta fare uno snippet uno strumento di cattura mi cattura mi cattura un pezzo di talisman che è questa parte qua così ok sono col nome talisman perfetto in immagini andiamo su immagini ci cucchiamo talisman perfetto ah ho capito salva col nome non png proviamo a fare un jpeg questo va benissimo perfetto i jpeg sono quelli che vanno meglio i png sono molto più nitriti questo va benissimo perfetto salvo dovrei avere adesso però aspetta ancora una volta c'è un errore c'è un errore nella parte del vivo c'è ancora un errore c'è ancora un errore c'è ancora un errore modifichiamo questo talisman digital ed etion perfetto salvo adesso mi pare tutto a posto per un live stream classico live stream molto bene il live stream c'è qui mi arrivano un po' di notifiche ok notifiche fastidiose che stufano cazzo ho letto bene the witcher netflix scusami another life another life non mi interessa ma the witcher forse si però eh vediamo un po' no no another life ok allora partiamo con talisman niente vado vado tranquillo finito il turno al mio guerriero passiamo al wizard cimitero no qui forse è meglio allora questo get drunk and collapse in a corner miss one turn e questo qui sarebbe il se digito uno poi se digito due vediamo tenendolo qua il microfono se mi cucca bene l'audio per far questo posso provare a sentire da qua per sentire se cucca bene l'audio dal microfono dal microphone dal microphone one allora 0 for games 0 for games 0 for games forse non ce l'ho qua dentro vero? esatto non ce l'ho va bene key you key you care space 0 for games no ce lo si vediamo un po' vediamo il mio live digital eccolo qua allora vediamo un po' key you key you care space 0 for games no ce lo si no il microfono fa... il microfono fa... il microfono fa la sua parte vediamo il mio live di vita... no no il microfono va bene fa la sua parte il microfono va bene fa la sua parte ok il microfono messo lì può andare bene perché cucca bene il coso allora get drunk and collapse in a corner miss one turn 2 get tipsy and fight a farmer with strength 3 3 gamble and lose one gold 4 gamble and win one gold 5 a wizard offers to teleport you to any other space in this region next move 6 a boatman offers to ferry you to the temple as your next move io non capisco perché qui ogni tanto viene fuori una freccia devo capirla questa cosa qua ok tiriamo il... andiamo... travelliamo qui col nostro mago e trolliamo il dice get tipsy and fight a farmer with strength 3 quindi... quindi faccio botte con questo ignorantone qua uso la weapon chiaramente così vado a strength 2 più modifier 1 e vado siamo a pari di strength diciamo ecco che sacchia con l'ubriacone qui ecco due le ho prese di santa ragione va bene una cosa disgustosa il mio mago con l'ignorantone le ha prese adesso questa qui la gioco però perchè qui c'è questa cast and start the air before you move take one object of your choice or one gold from any character questa qui la gioco la chiubo la chiubo chiubo ok stil gli ho stillato la sword al mio mago third il mio elfo può andare qua e lo mando qua amulet you can't cast spells including the common spell no spell will affect you other than the common spell the magic the magic the magic the magic the magic ghetto amulet e devo andare per forza qui porco giudo qui c'è il dragone il dragone è tostissimo ragazzi e la prendo sempre porco giudo lo incontro lui ha strength 7 io strength 4 a 4 che ho preso di nuovo cazzo ciò che сделать dragone qui è un cazzo 3. Qui cosa c'era? Pool of life. Pool of life. Four life points are found here. You may bathe in the pool of ones per visit and take one life from the pool to add to your own lives. When all four have been taken away, the pool of life drains away. Fat question on that. Ok. Andiamo in la pool of life. Travello here. Andiamo a incontri. Guadagno 6. Arrivo 6 di vita. Ma col mio elfo. No. Stavolta non incontro il male. Draw adventure card. One. You may always have at least one spell. If your craft loss gain a spell I don't understand you cast your last spell. Io di craft cos'ho quattro. Ok. I always have at least one spell if you're craft I don't understand. Well. Sì, però c'ho sto muletto di merda. These are your objects. Good. Finishing tour. Tocca il mio guerriero. Qui cosa c'è? Chapel. Based on alignment. Sì, lui che cos'è? Neutral. Io non ho gold. Per cui è meglio che vado qui, nel village. E parlo quel mistico. Ma io non ho gold. Per cui è meglio che vado qui nel village. E parlo quel mistico. Non rirollo. Ignore. Bene così. A cinque. Ottimo. Game one craft. Molto bene. Vado a tre. Very good. Roll dice with the wizard. Draw adventure card. Magic belt. Add one to your strength. Figat. E questo di strength è poco. Quindi finissimo. Take the object. Ah, c'è anche la princess. Questo invece è lo spell. Ah sì. Ok. Smash. Vindiamo il turno. L'elfo. Andiamo qua. E poi colco uno di vita e quello là se ne va via. Con l'ultima carta qua. Se ne è andata. Il guerriero. Il guerriero è il guerriero è il guerriero. Perfetto. Travello qua. Il pecco di due carta. Oh, il talismano. Che figata. Eccolo qua. Eccolo qua. Il talismano. Eccolo qua. Eccolo qua. Il talismano. C'è anche questo. Craft trophy venue. Ok. Il mio wizard. Il mio wizard. Perfetto. Vediamo cosa vedo qua. Perfetto. 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 Molto bene. Perfetto. 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 Questo è un oggetto favoloso. Me lo tengo strato. Molto figo. Ne ha altri oggetti di wizard? Ok, così sta roba. Ok, l'elfo. Oh! Ah, qui ho a combattere il wizard e incontro il character. Sì, ce l'aggiungo. Così almeno anche il wizard si becca un strength non malvagio. Pazzo pari. Allora, se è a 5 per l'elfo. Va bene? Questo perde. E di request. Dolph wins. Perfetto. Warrior. Poltergeist. Perfetto. Poltergeist. Roller dice. Ok. No. Il drago non lo voglio. Perfetto. 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 Benissimo. 1 gold. Non male. Ok. Roll dice. Perfetto. Questo è il mio elfo. Questo è il mio elfo. Questo è una figata. Questo è una figata. Questo cos'è? L'elfo. Sì. Perfetto. Questa è una tosta. Tu ti dici. Questo. Leach courts. Figata. Sono liberato dall'amuleto che rompe i coglioni. L'amuleto non mi rompe il cazzo. Sinceramente. Ok. Salvo la partita. 5. Yes. Yes. Molto bene. La in giù. Queste sono le espansioni che ho appena preso. Sono molto interessanti queste espansioni. Si dovrebbe fare quelle espansioni qua. Molto belle. No. Espansioni eccellenti devo dire. Tutte molto bene come espansione. Proviamo un attimo. A farne una nuova. Io propongo come espansione. Facciamo un new game. Prendiamo. Anzi che il warrior. Mi prendo. Assassino va benissimo. E il local player gli faccio prendere. Il menestrello. La proprietessa. Ce ne aggiungo. Ce ne aggiungo. Questo chi è? Altif. Per prendere questi dovrei usare un'espansione. Quindi. Usiamo un'espansione. Allora. Le espansioni. Sono tutte disabilitate. Io ce le ho tutte. Comunque. No. Volevo l'ultima. Così. The ancient beasts. Si. Vai. Alternative endings. Questi sono i personaggi. Double expansion characters. Perfetto. Proprio. Ok. Good. Saggiungo. Qua c'ho anche i characters. Di quell'espansione. Quelli qua. E chi è? Ninja. Va bene? Chiamoci Ninja. Anzi che questi prendiamo quelli dell'espansione. Allora. Chi è questo qua? Woodsman. Bello. Che la profetessa. Prendiamo. Samurai. Grande. Poi cattiamo. Cinzia. Me ne strego. Questo qua. Martial artist. Va bene. Martial artist. Io invece personalmente mi cocco. Cocco. Il 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 cocco. 절. Il cocco. Il cocco. Il cocco. Il cocco. con la ellaily. Uccano, che dentro. Heh sche Health. dove laита. Saranza Magna. Sì. Il cocco. I scienzi. Per ora lai... il cocco. Il cocco. Infimo. Cosa ci prospetta lo scenario? Ah, il goblin che può... Saraceno, cominciamo. Questo non capisco. Ma non c'è lo scenario. Aspetta un attimo, però. Faccio la spesa l'ombra. In questa partita. Anche ignorante. Yes. Scusa un attimo. Scusa, i personaggi ma non ho... L'espansione. L'espansione. Che riesce a fare. Terrain... These rewards. L'espansione. Questa è il ripo Il dungeon Board section Board section Board section Board section Eh, vuol dire che questo Non ha la board section Ecco perchè Ok, va bene, va bene Allora ho capito il perchè Ho capito il perchè Non ha la board section Vai Old eyes Siamo al Il mio Ok Do not draw a card If you already want the space Questa invece cos'è? Le rune Do not draw a card If you already want In the space Ok Aggiungere due attacchi Due di attacchi A tre volte Uh Hub goblin No, questo non è ancora Del gioco base Strength 3 A brutto hub goblin Is stock in this area It will remain here Until it's killed So I have to encounter it And let's encounter it Skip encounters Dunque perchè lo posso Skipare Vediamo un po' Saraceno Ok You begin the game With the shield From the purchase deck You do not lose a life In the desert Ok You may attempt to recruit From a character That you land on Allowing you to take One follower Of your choice To do so Role one time You must Role less than Or equal To the number of followers You have You treat all followers As if they had An encounter Number of one So the start is the oasis Ah ecco perchè Parte nell'oasis E l'alignment Is neutral So In battle Good Shield If you are defeated In battle And lose a life Role one time If you roll Five or six The shield protected you And you did not lose that life Though you still lost the battle Ah beh comunque Lost la battle Continua Bye Roll the dice Six C'è per me Tredici Ragazzi 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 Una potenza Il mio Saraceno Una potenza Una potenza Il mio Saraceno Fighissimo Vediamo il Martial Artist Si schianta qua No Roll on Cazzo Ma perchè ho rivolato Ma vaffanculo Allora questo che allineamento ha Neutral Neutral Se andiamo qua dentro Come neutral cosa succede? Replenish fate Il mio Saraceno Il mio Saraceno Il mio Saraceno Va bene Andiamo qua dentro Ecco qui Select the amount of fate purchase Replenish fate up to your fate value Ma qui lui ne ha il massimo Il fate qual'è questo? Ma lui ne ha il massimo Aspetta Eh no Di fate ne ha tre Allora lo repleniscio Lo repleniscio Si One One va bene Continuo Perfetto Ha replenisciato One fate Perfetto Ok Avevo Un samurai Un intanto il samurai Le sue special abilities You begin the game with a sword From the purchase deck Ok Ah quindi c'ha una sword Andiamola a vedere subito Lui qua dentro c'ha Una sparta Eccola qua A quale spada gli addizionò uno la stradure In the battle Il suo modifier è quello Ok Testa nera Allora At the start of the battle You may use Kyu Jutsu And the scar won't go to rule One die And add the result to your attack score Ah cazzo At the start of the battle eh You may only do this once per battle Whenever another character in your region engages an enemy in battle You may use your EU To aid them Move to the character of space And add your strength value to the character's attack score If the enemy is killed You receive a reward Or gold Whenever you are attacked by another character in battle You may use Jujutsu To add your craft value to your attack score Ok Ok Cazzo Il samurai è una figata pazzesca Good Eccolo Il samurai I got it Questo è ancora del normale A goblin is laying waste to this area It will remain here until it's killed All right Continue And counter So Yes I add it And I continue Good Three and two So roll the dice So roll the dice After it hits you Non mi è bastato Andato a finirsi a quattro Perfetto Continue Good This is good And turn Molto bene Cos'è sta roba? Ah, il woodsman Questo ce lascia proprio perché come carattere è il real weapon One To your strength during the battle You may build a raft Ah, when you are in the woods or the forest Good Ricordo che la raft serve per andare nel secondo anello qua Attraversare il fiumicello e andare nel secondo anello Ok Let's go with the woodsman Three I'll take my chance here Travel here And taking adventure card Ganome You need only roll one die When opening the portal of power I craft and two dies in the mines Ok The ganome è un ottimo follower You need not roll the die in crags unless you wish to If you choose to roll you must accept the result Ok You may embed creatures and characters in the hills Good Continue And take the following So I got my ninja Però non ho visto le info su quest del woodsman Special abilities You begin the game with an axe From the purchase deck Ok If you lose the axe You may take one from the purchase deck For free If you visit the forest Ok You add one to your attack score When you use a weapon that has the word Axe in its title Whenever you land on the woods You may draw two adventure cards Instead of one But you must encounter both cards If there is a card already on the woods When you land there You may draw a second card But you must encounter both cards You may add one to your die roll in the forest Ok Animals will not attack you Although you may choose to attack them So I got a start in the forest And the alignment is neutral We got good strength and good life Ok Let's see Let's see how the ninja is working You may never have any followers You may make a secret strike When you attack a character or creature Ah I figured You cannot do this when you are attacked By another character The battle takes place as normal Except that you deduct Your craft value from your opponent's attack score To a minimum of 1 You may evide enemies in any region Figata Whenever you visit the city Tavern, village Chapel or Riga You may draw one adventure card Instead of resolving the destruction on the space Minchè che figata ninja Bellissimo Bellissimo Per la completezza Andiamo a vederci anche Goblin Shaman Special abilities As you begin the game with one spell You need not roll the die in the cracks Unless you wish to If you choose to roll You must accept the result Alright Whenever you land on the cracks You may replenish fate out to your fate banner Whenever you encounter an animatic card That has the word goblin Or a hobgoblin In its title You may spellbind it And take it as a follower Instead of attacking it At the end of your turn You may discard one of your spellbound enemies And gain one spell If you will Allows When you would lose a life You may discard one of your spellbound enemies It is to prevent the loss of life The loss of life So the cracks is the start And the alignment is equal Strength is low Craft is high It's a whore And life is four You can keep on gaming Good Il ninja se ne va veramente lontano Andiamolo qua No, non posso competere con quel coglione là Ok The magic portal The magic portal The magic portal will remain here for the rest of the game You may pass through it If you wish Rule one die to determine whether you are teleporter or not Or teleporter Two Craigs Bill of sea Work of game Temple Plano Peril Cazzo Con il save I made a Plano Peril Lo encounter Roll dice E vado nella city To the city And in the city What I have to do Visit the Enchantress Turn into a toad Figata Lose one strength Lose one craft Gain one strength Gave one spell And visit the Doctrine Heal up two leaves At the cost of one gold each Visit the Alchemist Discard any number of objects you have And gain one gold for each Ah bello I want to encounter it I want to encounter it Draw Because I bet you a card So the sorcerer Si perchè questa era una caratteristica del ninja Che poteva andare a encounter Whenever you visit city town You may draw one card Instead of resolving the extraction On the space Molto figlio A sorcerer set up a shop there And will remain for the rest of the game I've got He sells spells At the price of one gold for spell But only to those who craft a lose A lose You may only buy one spell Visit Visit Ok Spell for visit So Encounter So Draw a spell Continue And show the cards I want to see the cards Of my ninja I want to see the cards Oh destruction Cast at the start of your turn Or when you have just completed your move The spell will remove any face of adventure card From your bow Bolt That's good And The goblin shaman And then I quit My session My YouTube session Just because I'm so tired I can't stay Anymore On the game Here Encounter Space Let's see For the adventure card And guide You need not roll Dying Chasm Cracks Or forest Unless you wish to If you choose to roll You must accept the result Ok? That's so good Take the follower This follower is So cool End of turn Alright? Possiamo chiudere la sezione Molto bello Farò una parte 2 Dove farò vedere il mio salaceno Grazie a tutti Concludo Lo streaming A big pleasure Thank you Thank you